Romagna 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 Lontan da te, non si gustas Lontan da te, non si gustas Lontan da te E ragazzi, fuoco! Ciao a tutti, benvenuti! Volevo partire, non ho la voce Ma in apertura, ma si può! Ciao a tutti, da Letizia, ma naturalmente da Gianfranco Gori E questo popò di meno di un po' Le dive, le dive a Romagnania! Abbiamo le dive qui con noi Allora, Luana, Antonella che manca, Chiara la salutiamo Mirella, Brunella, Sonia, Sabrina E tu? E tu? Ma piccolina Come si fa? È mascotte? Allora, partiamo, visto che hai il microfono tu lui Ma sì! No, ormai tu sei veramente, sei partita cantante Non mi sto facendo mancare, no, niente Presentatrice, conduttrice No, 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 non c'è Cosa ti manca? Ballo? Aio! Quella non mi mancava! No, mi piace, mi piace sfidarmi, no? Mettermi alla prova nelle cose che mi piacciono, che mi incuriosiscono Però sarebbe già molto bello poter riuscire a fare poche cose fatte bene piuttosto che tante fatte male Beh, già tu sei mamma Ecco, quella è la cosa che mi è riuscita meglio, devo dire Insomma, fai un sacco di cose anche a conciliarle Ma si tratta solo di organizzarsi Poi qua ci sono delle altre mamme, quindi è chiaro che va anche un po' a discapito della vita privata Questo è risaputo, Brunella è mamma, Mirella è mamma, insomma anche Sonia e Antonella che non c'è per cui basta organizzarsi e tutto riesce insomma Tua trasmissione sta andando alla grande Sono molto come, 21 anni Sono molto incavonata perché i miei guardano tutti a trasmissione È vero, infatti voglio salutare Giampiero Si gira il canale e io improvvisamente passo in quinta, quarta posizione Non sei profeta in patria da lo stesso No, devi fare un saluto particolare A Giampiero Lo chiederò a tutte perché lui è innamoratissimo di tutte voi, quindi insomma a zio Giampiero Si, Giampiero, un bacio grande grande, ciao Mi offre il caffè, eh? Che al minimo No, vabbè Allora, partiamo subito con la musica perché sennò poi non abbiamo lo spazio per proporre il video di tutte quante voi Luana, oggi ci fai ascoltare Soli Soli, sì, è una canzone le cui parole sono state scritte da me, insomma, è una bella canzone, devo dire Autrice No, ma autrice come tante altre, non sono io solo che faccio queste cose, quindi non voglio, in questo caso questa canzone è stata scritta a me, però Torella scrive, non sono loro, Antonella, tutte bravi, tutte artiste Bravissime E poi non ho detto uno scrive, poi c'è chi scrive bene e scrive male, non è detto Ma guarda, io solitamente disegno perché non ho questo dono della scrittura, però disegno Questa è una canzone che sento da Soli, è una bella canzone Allora ce l'ascoltiamo, Soli Luana E poi restare soli, soli come io sono sola, soli senza una parola, soli con il cuore in gola Soli come sono sola io, mentre scrivo le mie canzoni e scommetto che anche questa volta scriverò di te Cerco tra le parole quelle che si possono dire, caccio via dalla mente quel tuo sguardo sorridente Fatto a lei la mia migliore amica L'altra sera sotto il tuo portone dove ho letto una parola fine scritta in faccia a te E ora ho bisogno di te, più forte ho bisogno di te, ti cerco tra la gente e ho bisogno di te Tu mi hai fatto volare, tu mi hai fatto volare, non puoi mandarmi giù Domani si va al mare, ma io che ci vado a fare se non sei lì ad aspettarmi Dimmi cosa c'entrerà poi il mare, magari torno sotto il tuo portone E mi dico sai non era lui, il ragazzo di quell'altra sera somigliava a te Perché in fondo ho bisogno di te, più forte ho bisogno di te Mi sta scoppiando il cuore e ho bisogno di te, tu mi hai fatto volare, non puoi mandarmi giù Perché in fondo ho bisogno di te, mi sta scoppiando il cuore e ho bisogno di te Ti cerco tra la gente e chi mi manca sei tu, tu mi hai fatto volare No purtroppo No purtroppo Perché in fondo ho bisogno di te, mi sta scoppiando il cuore e ho bisogno di te. Ti cerco tra la gente e ho bisogno di te, tu mi hai fatto volare. Bravissima come sempre la nostra Luana, splendida insomma, passiamo a un'altra splendida. Eccoci, eccoci, io non ho parlato ieri. Ah ecco, quindi ti è concesso la parola vai, è un testimone, come testimone della staffetta. Insomma ti vediamo protagonista di Sette Notte, tutti i lunedì sì, mi diverto, mi diverto, mi diverto Letizia davvero guarda. So che sei tornata insomma stanotte, tarda, sì abbastanza, abbastanza, sono infatti un po' cotta, infatti si vede. La mattinata, poi stasera avrai un'altra serata, quindi sempre di corsa. Sempre di corsa, insomma dai. Ma benvenga insomma, io ho piacere di... Che c'è? No, poi volevo dirti, poi volevo dirti che con queste dive io sono rinata, ti dico la verità, guarda, perché inaspettatamente, cioè ci conoscevamo tutte, perché è logico, tra colleghe ci si conosce un po' tutte, però insomma si è instaurata questa amicizia forte, questo bel gruppo, bel. Poi abbiamo, siamo state il 25 di novembre, che è il mio compleanno, pensa siamo state a Milano, in mezzo alle dive quelle vere, c'era Geppi Cucciari che presentava. Abbiamo visto il video, abbiamo visto il video su YouTube, bellissimo. C'era Risa, Elisa Minetti, Siria, chi dimentica? Posso dire una cosa, io preferisco voi. Ma che carina! Quanto gli abbiamo dato prima? E fu già un pranzo! Io assolutamente, loro sempre, proprio mi sono entrata nel sangue, sono proprio un gruppo sanguigno, come dire. Guarda, Letizia, anche in teatro abbiamo fatto la nostra figura, perché quando siamo arrivate noi, noi sul palco, non lo posso dire, quando siamo arrivate noi sul palco, a detta di tutti, c'erano 2000 persone, una botta di vita. Ma io lo so, perché comunque vedo che qua, comunque dove andate voi, insomma, la gente si raduna e torno. Sai cos'è? Noi trasmettiamo veramente quello che stiamo vivendo e quello che siamo, perché siamo otto bambine un po' pazze, un po' incoscienti forse, e che veramente noi stiamo tantissimo bene insieme e crediamo moltissimo in questo progetto. Per cui trasmettiamo davvero le emozioni che noi proviamo, riusciamo a trasmetterle. Si sentono, non ha mal fatto. Come belle persone, forse, semplicemente. Che poeta, ma anche poetessa. Sonia for presidenti. Allora, facciamo una cosa. Scusate che ho avuto la Sabri, però. Sì, scusate. No, perché a me con lei sono sempre molto... Ci vogliamo bene. Come parli bene, Sonia. Dipendesse da me... Ci fai ascoltare? Sì, dipendesse da me. Guarda là... È una canzone che richiedono sempre, richiedono sempre tutti i miei... Tutti vicini. I miei colli. Avvicinatevi. Vicini, ecco, guarda. Arriva appunto, dipendesse da me. Come sto bene in questo gruppo io. Sei l'uomo dell'amica mia Non dobbiamo scordarlo Non mi guardare come vai Non mi pensare come sai Tu non devi farlo Per lei sei tutto quel che ha Per me solo un amico in più Per te una voglia in più che hai Un'avventura poi da cui Scappare via finché non puoi Dipendesse da me Ci penserei prima di amarti Dipendesse da me So che potresti anche tradirmi E farmi male come a lei Più che un'amica E come fossi io Abbiamo diviso tutto noi Poi le grandi gioie I giorni bui La gioventù Ed i primi guai Ma un uomo in due No, non si può La mente fa Dei cerchi strani Prima carezzi il viso suo Poi le tue mani su di me Ci vediamo domani Ma come fai a dividere Un sentimento e non perderti In un groviglio di perché In un gran male di ciò è L'amore tuo non sai cos'è Dipendesse da me Ci penserei prima di amarti Dipendesse da me So che potresti anche tradirmi E farmi male come a lei Più che un'amica E come fossi io Abbiamo diviso tutto noi Nei grandi gioie I giorni bui Ma un mezzo amore Questo ormai E farmi male come a lei E farmi male come a lei Più che un'amica E come fossi io Abbiamo diviso tutto noi Nei grandi gioie E i giorni bui Ma un mezzo amore Questo ormai Dalla città di Sant'Arcangelo di Romagna Le edizioni musicali Casadei Sonora Presentano il DVD Una vita in musica live Grande spettacolo per ricordare Secondo Casadei A quarant'anni della sua scomparsa Intervallato da immagini E filmati d'epoca Con la sua musica suonata dal vivo Dalla grande orchestra della Romagna Diretta da Moreno Conficconi E Luca Bergamini Con l'esibizione di caratteristici Ballerini romagnoli E con la partecipazione straordinaria Del tenore Maurizio Tassani In una speciale versione lirica Di Romagna Mia Per informazioni Edizioni musicali Casadei Sonora 0541-945259 Info chiocciola Casadei Sonora Punto it Il tempo di un caffè Ma noi siamo tornate Prontissime Cariche Cariche Caffeinatissimi Ci vuole il grappino Ecco L'ammazza caffè Ci vuole il grappino Il grappino Caro Alberto Posso dire una cosa Anche un momento per te Ti regaleremo Un'aureola così Attenzione Un complimento Attenzione Allora volevo dirti Gianfranco Che tu da oggi sei un divino Ah opera Perché noi siamo le dive E tutti i nostri I nostri uomini Collaboratori di questo progetto A partire dal fotografo Damiano Fiorentini Il regista Davide Legni Il nostro coach Capatri Contarini Igor Nogarotto E Francesco Loris Ceroni Eccetera Sono i nostri divini Sono stato promosso sul campo Quindi tu promosso sul campo Anche con la spada Divino Divino Gianfranco Guarda Ma è che l'one di luce che ho Gianfri Entrare non è neanche troppo difficile È uscire E mantenerci E mantenere Che dopo la supportazione è un po' più dura Bene Guarda Sonia Sempre Sonia for president Ma l'ultima volta ci siamo visti a Londra C'era anche Boi Giorgia Adesso ci ritroviamo qua Pensa Pensa un po' Si sta meglio qua Certo Romagna forever A casa A casa Si sta bene a casa Ecco Tra l'altro adesso invece ci presenti un tuo video Che presenterai tu Anche perché non me l'hanno scritto Spero sia quello Quello lì Proprio quello lì Proprio quello lì Il video è quello lì Sonia lo sai tu qual è? No Io credo che la regia manderà in onda il video ufficiale di un brano Sì Degli FBI Project Prenderemo da YouTube Sì Come on and do it Come on and do it Un brano girato proprio a Londra A Londra A solo Eh mi ricordo Io lo so E lo so Eri dietro all'angolo dove c'era Zanzi Super Sexy Show E quello io E vai Perché io mi chiamo Zanzi No no Una chicca No no veramente ragazzi A Londra c'è un super sexy show che si chiama come me E quindi Ma hai fatto un franchising Hai fatto un franchising Non vi dico la figura che ho fatto in quei giorni Non sono io la proprietaria A Londra c'è un super sexy show che si chiama come me You may not believe it It's nearly over 2 Ain't tight to follow through The number that I'm taking It's only just to you You've gotta get by Come on and do it 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 You may not believe it Grazie a tutti 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 Come se fossimo stati qui da prima Da prima sì, da due puntate Perché lei ieri non ha parlato Io ieri non ho parlato Giusto Quindi hai tre ore, puoi parlare per tre ore No, assolutamente Ininterrottamente No, ricordiamo il progetto Diva comunque che ieri abbiamo parlato tanto delle dive Ma questo progetto che prosegue, quindi lo vogliamo ripetere per coloro è che si sono sintonizzati solo adesso A parte che se qualcuno non ha acquistato il calendario può essere ancora acquistato No, scusa che dovendo partire da marzo questo era un pochino in meno perché mancano due mesi No, però io voglio anche gennaio e febbraio No, il calendario lo diamo intero però naturalmente con un po' di scontistica È giusto Certo, certo Tu sei nel mese di? Io sono in febbraio Febbraio? No, poi comunque sfogliando in vari mesi Perché non è un calendario che ha una sola immagine Con i veli o senza veli? Siamo tutte vestite Tutte vestite Sì, sì, siamo persone molto serie Sì, però Parliamo del tuo brano che presenti oggi invece Invece no Invece no, sì, è un brano di Laura Pausini Naturalmente rifatto da me insieme al mio gruppo Che io canto con gli amici del sole Ed è un brano che ho voluto incidere soprattutto per dedicarlo a mio padre che non c'è più E noi lo guardiamo e lo viviamo insieme Forse bastava respirare Solo respirare un po' Fino a riprendersi ogni battito E non cercare l'attimo per andar via Non andare via Perché non può essere abitudine In genere senza te Che resta qui Spera l'impossibile In te certo Non c'è Più tempo per negare Per chiedere Se Ti avremo tanto amore Non sono qui E avrei E avrei Da dire Ancora 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 Che si spezzano Pagliate E cose più importanti Quelle parole Non ci siamo mai Non ci siamo mai Faccio un tubo E lo Tu Per parte Mi sai E guardate qui Una per una qui Che senti tu Pesano si posano sempre su Dio, se manchi tu, io non so ripetere, io non mi affanile più, e invece no, qui stiamo a noi ricordi, e io farei di più, di ammettere e piattarti, come voler poter parlare ancora, ancora, e invece no, non ho più tempo per spiegare, e avevo anch'io, io qualcosa da sperare da darti a me, qualcosa da dire insieme a te. C'è niva sta respira, solo respira, buco. Forse è tardi, forse invece no. Edizioni musicali Casa Dei Sonora Divertiti con l'allegria della nostra musica Edizioni musicali Casa Dei Sonora È una garanzia Spartiti con i brani più belli firmati Casa Dei Polche, balser, mazzurche, a soli di clarinetto e sax E tutti i ritmi internazionali più ballabili CD, musicassette e DVD Per avere sempre a casa tua, una grande festa Edizioni musicali Casa Dei Sonora La tradizione, l'attualità Ciao! Ciao! Salutiamo così! Siamo domani per una nuova puntata! Ciao! Non mancate, ciao, 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 ciao! 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 So! Sei la stella, tu sei l'amore, quando ti penso vorrei tornare, dalla mia bella al caso l'aree. Romagna, Romagna mia, lontano a te non si può stare.